Buonasera a tutti e benvenuti alla Night Session di mercoledì 1 giugno. Sono le 23.14 e analizzeremo il grafico di Bitcoin con la mia evoluta. Allora, cosa è successo? È successo tutto quello che ci eravamo detti nei tempi dati, ovvero siamo saliti, abbiamo fatto partire il terzo di settimanale, c'è stata una forte spinta che ha creato un massimo, questo massimo ha creato la condizione necessaria e sufficiente per chiudere il t inverso iniziato qui e questo t inverso, questo settimanale inverso, era il terzo, se vi ricordate bene, primo da 11 più 7 più 8. Quindi con un 3 tempi, mettiamolo bene in evidenza adesso che possiamo rimetterlo a posto, siamo andati a creare la condizione necessaria e sufficiente per che cosa? Per non solo chiudere il t settimanale, ma anche appunto il t più 2 inverso, il secondo t più 2 inverso di questo t più 3 inverso. E dopo che chiudiamo un mensile e chiudiamo anche un trimestrale inverso, quanto siamo arrivati di questo trimestrale che è al minimo 2 a 48 barre? Quindi abbiamo fatto il 63. Siamo arrivati vicino alla durata media un giorno in meno e se da qui parte come minimo un nuovo t più 2 inverso, un nuovo mensile inverso piuttosto che un nuovo trimestrale inverso, avete idea di dove si va, giusto? Ricordiamoci sempre che siamo arrivati a 204 giorni di inverso, che siamo arrivati con questo massimo a 202 più altri 2. Quindi abbiamo già superato la durata minima di un annuale inverso che ci dice che da qui sopra sta partendo un quadriennale in media inverso che non vuol dire ribassista, ma vuol dire che spinge per partire verso il basso e fa scendere i prezzi di bitcoin. Poi, in base agli swing e ai movimenti dati dei volumi, potremmo dire che se ne avrà, se sarà meno o più, ma in ogni caso, fosse anche soltanto neutro, farebbe il movimento più forte e ribasso nella sua prima metà. Quindi, probabilmente tra un 6 mesi, anche di più, anche 9 mesi, se fosse un 3 anni. In campana. Se andiamo ad allargare peraltro il grafico, ritorniamo, vedete che è sempre aggiornato, tengo sempre aggiornato, abbiamo che c'è stato un primo t più 2 inverso, un secondo t più 2 inverso. Per chiudere un t più 3 inverso, ovvero un trimestrale inverso, che cosa serve? Serve un settimanale inverso ribassista. Eccolo qua. Ribassista di inverso è uguale che ribassista di inverso significa che si sale sopra il massimo di partenza. Quindi qui abbiamo tutto. Adesso, se vuole partire un nuovo t più 3 inverso, è questa la direzione. Se fosse anche soltanto un mensile inverso, dovremmo stare sotto il massimo assoluto a 32.503 per almeno e per almeno 6 candele. E ne abbiamo due. La seconda è diventata un pochino più grossa della prima. Anche in questo caso, se il mensile, come detto anche in passato, dovesse appartenere al nostro annuale, perché siamo ancora a 316 giorni, sul massimo 332, durata copiatissima da me, perché non è la classica né di Hurst né del migliorino, quindi copiata dalla mia e voluta, c'è spazio. In realtà si può chiudere a 24 barre, ma, come detto, da qui cosa sta partendo? Per prima cosa, ho segnalato qualche giorno fa, forse ieri, al gruppo premium che questo era lo swing per la partenza di un nuovo T-1 inverso, i 30.260, quindi abbiamo una parziale conferma della partenza di un T inverso, parziale per modo di dire, perché nella realtà di fatti è una spinta talmente forte che si è mangiato oltre il 50% del ritracciamento di Fibonacci ed è andato a lambire il 61.8, anzi sotto il 61.8, quindi alla faccia. Qui c'è ancora tempo per eventualmente continuare a scendere lato indice? E' come se abbiamo tutto lo spazio del mondo, siamo arrivati al sesto T-3, condizione necessaria e sufficiente per la chiusura del terzo settimanale, ma, se vogliamo andare a chiudere anche il mensile a tre tempi per fare il pari con l'inverso, non succede, ma se succede, ok, dobbiamo scendere per quattro giorni, quattro giorni ci stanno dopo un sesto T-3 ribassista, tutti quelli che volete, peraltro con questa, se si continua con questa velocità, viene da ridere che non si scenda, d'accordo? Che non si scenda soprattutto qui sotto e poi, come detto, sotto i 26.591 dollari. Ecco perché posso essere una risorsa estremamente valida per un order, perché continuo a dire che, attenzione, se non avremo forte spinta e non andremo in violazione di uno swing grosso, qui si ritorna a scendere perché finisce l'annuale. Abbiamo violato uno swing grosso? Ma assolutamente no, da questo minimo non abbiamo superato questo, questo, non abbiamo superato niente, assolutamente niente. Poi, siamo andati nel finale per chiudere appunto il mensile inverso e il trimestrale inverso a fare quella cosa lì, però se dovessi mettere tutti i miei soldi o su una salita o su una discesa non lo farei mai perché sono un analista quantitativo dei mercati e delle cripto e non sono un folle. Per cui, questo non è un gioco, questi sono soldi ovvero tante cose per una persona. Libertà, sicurezza, salute, non si scherza mai con i soldi. Tornando a noi sempre, bitcoin 20 barre su minimo 24 che può durare appunto un settimanale per un mensile. Ritracciamento di uno forte attorno al 50% di Fibonacci. Chiusura di inverso, partenza di nuovo inverso, ribadisco. Temo che il target per i prossimi giorni possa essere appunto a 26.591 dollari. Temo per gli order perché o si fa un cambio di passo e si dice ok, un attimo, non è che devo rimanere a soffrire per degli anni, per delle settimane, per dei mesi e si cambia oppure va bene così la filosofia dell'order ricorda tanto attenzione prendete questa cosa con le pinze quello di una persona che tiene in mano un cerino. Fate attenzione. Fate attenzione. Ho letto vari messaggi di chi fortunatamente mi ha ricordato che mi ascoltava già da tempo e quando ho lanciato questo warning si è evitato tutta questa discesa. Io continuo a dare informazioni di valore. Valutate voi che cosa farci perché intanto non sono io a dovervi dire che cosa dovete fare. Io vi racconto che cosa faccio e vi do le informazioni di quello che è in previsione che possa ancora succedere chiuso un trimestrale inverso ne può partire un altro a meno che non sia un 3 tempi come detto con 3 t più 2 inversi ma comunque la direzione è abbastanza segnata. D'accordo? Facciamola così e via. Qui dunque facciamo anche un altro conteggio che bello qui teoricamente tra l'altro abbiamo avuto una divergenza ribassista ovvero abbiamo avuto massimi in pari massimi decrescenti e quindi c'è stata questa questa bella discesa questa cosa delle divergenze si vede anche dopo magari e oltretutto essendo così distanti si sono belle da disegnare su un grafico ma nella realtà di fatti una divergenza non ci dice mai il tempo in cui si può scendere e invece con la mia evoluta si può vedere che minimo si dura minimo un mensile inverso dura 24 barre eccetera eccetera noi ne abbiamo fatte 26 ora cosa facciamo? Torniamo operativi allora abbiamo questa indicazione interessante andrò a dire al gruppo premium dove passa lo swing per un mensile inverso in modo che si veda se sarà un mensile o un trimestrale inverso nuovo che partono con spinta e ribasso ma ragioniamo pezzo a pezzo 1 il senso T-3 è arrivato a 41 barre quanto ne può durare al massimo? può arrivare fino a 44 per cercare ancora un minimo ovvero fino a mezzanotte e mezza successivamente proverà a partire un nuovo T-3 ovvero il settimo T-3 se non sarà altro ok ma comunque un T-3 in generale e a quel punto se questo sarà il minimo da cui sarà partito 29.346 dollari e se eventualmente prima di tornarci sotto si andasse ad avere una conferma qui sopra a 30.452 si facesse così 1 e poi si ritornasse giù la strada inizia anzi la strada continua a segnarsi dopo una gran bella finta a rialzo che appunto può aver chiuso il nostro trimestrale inverso con tutta la condizione necessaria e sufficiente per farlo ovvero ben un settimanale inverso ribassista eccolo qua adesso bisogna lavorare di fino bisogna ragionare di swing bisogna ragionare di tempi bisogna mettere un allarme dove da dove partirà il settimo t-3 siamo tranquilli che non è 1,2,3 da questo minimo qui da cui non è partito assolutamente nulla e attenzione anche un'altra cosa perché andremo su? per il fatto che l'inverso per ora è arrivato a 11 barre e se vuole andare a chiudere dovrà cercare una spinta rialzo e fare un massimo dalla 24esima barra in avanti quindi c'è tempo magari se avrò anch'io tempo anche se domani è festa e sarà festa della repubblica potrei fare un aggiornamento e quindi regolatevi vi ringrazio per il vostro tempo come al solito se siete appena arrivati sul canale volete ricevere degli appunti gratuiti di vecchia ciclica base da cui si arriva poi all'evoluta scrivete alla mail info chiocciola financial armor punto eu trovate sotto praticamente qualsiasi video precedente questa stessa mail mettete un bel like al canale iscrivetevi al canale gratuito siamo oltre 10.500 persone che non hanno più voglia di farsi prendere in giro e rimanere all'interno del parco buoi e ricordatevi che il curriculum con te come un'esperienza pluriennale in banca successiva a un titolo universitario in economia e commercio e un master in tecnica bancaria non sono bazzecole chiedete sempre a chi vi propone metodi eccezionali incredibili favolosi che curriculum ha poi ragioniamo ok che esperienza ha di trading quanti anni non vi fate prendere in giro d'accordo sono proprio qui per tutelare le persone da chi cerca soltanto soldi da abbonamenti per poi scomparire da un momento all'altro se le cose vanno male e io invece sono qui da tanti anni andate a vedere quando ho fatto la prima analisi su trading view buona serata a tutti arrivederci